Secondo necessità, non so, in un 4.2 a sinistra, partendo esterno, non so. Diciamo che il mio ruolo è il trequartista, quindi poi in avanti posso fare diversi ruoli, in senso in questi anni gli allenatori che ho avuto mi hanno adattato in tutti i ruoli d'attacco, ho fatto anche l'anno scorso a Livorno il terzo di cento campo, però diciamo è il ruolo che preferisco, il trequartista, è quello dove do il meglio.